Sale l'attesa per Campobasso Notaresco in programma domenica al Molinari a partire dalle 15. Numerosi biglietti acquistati dai tifosi del Lupo nei primi giorni della settimana. L'auspicio è che il dato di oggi di 3.000 presenti possa salire sino a registrare il record stagionale. Ora più che mai serve l'apporto del pubblico per sostenere la società e la squadra, anche per mantenere l'entusiasmo crescente che ha trovato il culmine a San Benedetto del Tronto. Mister Pergolizzi prepara la sfida al Notaresco, gli abruzzesi sono nel limbo di centro classifica senza obiettivi. I play-off sono lontani, la salvezza è matematica, ottimo il torneo degli uomini di mister Alessandro Bruno. Dopo la miracolosa salvezza della scorsa stagione, il Notaresco ha conseguito l'obiettivo fissato la scorsa estate, restare in Serie D senza patemi d'animo con una squadra giovane e promettente. Un team costante, come dimostrano i numeri, con 37 col fatti e 36 subiti. Un collettivo abile nel gioco corale e nelle ripartenze. Detto questo, il capobasso dovrà avere un approccio veemente all'incontro come fatto con il Riccione. Partire al massimo e mettere alle corde l'avversario la fame di Lega Pro dei Rosso-Blu dovrà essere subito chiara sin dalle prime battute dell'incontro. Rispetto degli avversari, senza alcuna pressione, i Lupi hanno un vantaggio di 4 punti sull'Aquila, un bottino che permette di giocare con la giusta serenità il match di domenica. Per Golizi va verso la conferma dell'undici scelto in queste due giornate, con De Cerchio, Maldonado e Abonchelet in mediana e le due punte Romero e Di Nardo. Una scelta che abbiamo lanciato durante gli aggiornamenti quotidiani del nostro TG Sport nella settimana precedente alla sfida contro il Riccione. L'atteggiamento giusto, il coraggio nel volere la vittoria, la cattiveria di andare a prendere la Lega Pro in ogni modo possibile. Questa è la richiesta dei tifosi, degli appassionati e di tutto il mondo rosso-blu da porgere alla squadra che ha sempre risposto nel migliore dei modi. Trasferta a Senigallia per il vasto Girardi, i marchigiani occupano il quinto posto, una posizione che vogliono difendere per guadagnare per il secondo anno consecutivo il piazzamento playoff. Obiettivi contrapposti con gli altomolisani che al contrario vogliono evitare con tutte le forze la retrocessione diretta. Nessun calcolo per Ruggeri e compagni. Servono tre punti per credere ancora nella salvezza. La classifica parla chiaro. Una sconfitta potrebbe condizionare definitivamente o quasi il cammino dei ragazzi di Marmorini. A piedi Monte Matese sfida al Cardiopalma tra i padroni di casa ed il Termoli. Da un lato l'ultima possibilità per i bianco-verdi di restare aggrappati al treno play-out. Dall'altra la voglia del Termoli di archiviare definitivamente la pratica salvezza dopo un girone di ritorno spettacolare. Il pareggio non serve a nessuna delle due squadre. Il Matese non può far altro che vincere in queste ultime tre gare stagionali. I giallorossi vogliono concretizzare il primo match point anche perché in seguito gli uomini di Carnevale sono attesi da una doppia sfida contro l'Aquila al Cannarsa e poi nel derby con il Campobasso. Due incontri dove il Termoli parte in svantaggio almeno sulla carta.